Anche quest'anno il rapporto delle imprese analizza le tendenze e le caratteristiche del sistema economico del nord Sardegna. Nel 2016 la crescita è stata dell'1,17%, superiore al tasso medio regionale dell'1,13. Resta più dinamico il nord-est con un più 1,71% e un saldo positivo di 397 imprese contro le 279 del sassarese. Il totale rimane però a favore del nord-ovest con 34.567 imprese, mentre sono 23.563 quelle galuresi. I settori più rilevanti sono il commercio, i servizi, l'agricoltura e la pesca e le costruzioni. Tra le forme societari più utilizzate, quelle di capitali sono cresciute del 4,67%. In testa rimangono le ditte individuali che coprono il 65% dei nuovi iscritti. Datti che dimostrano che nel 2016 l'economia regionale, compresa quella del nord dell'isola, è uscita dalla congiuntura recessiva che va depresso il sistema imprenditoriale degli ultimi anni. Dubbiamente sono dei numeri che in questo periodo di crisi ci dicono che quantomeno il nostro tessuto economico e sociale non si sta arrendendo. Abbiamo molti giovani e anche molte donne, molta imprenditoria femminile che sta credendo ancora nell'autoimpiego e quindi sta credendo ancora nella capacità di fare impresa. Soprattutto poi questo mondo in velocissima evoluzione sta creando e generando nuovi bisogni, crea nuove professionalità, crea quindi anche nuove idee di impresa. Dobbiamo guardare sicuramente positivamente a questo e io aggiungerei anche al dato che risulta più chiaro e rilevante una crescita del settore primario, del nostro settore agricolo e dell'agroalimentare che fa capire quanto ripartendo dalle nostre radici si possa guardare anche al futuro i nuovi germogli.